Il mondo dell'agricoltura, parlo in questo caso come Presidente di Confagricoltura Terni, si aspetta dall'Unione Europea che continui a stare vicino al mondo degli agricoltori, a sostenerlo perché a dispetto di quanto spesso si dice o si pensi che l'agricoltura sia un settore rispetto ad altri privilegiato per tutti gli aiuti e le forme di sostegno che ci sono, in realtà è il settore che soffre di più, in particolar modo lo vediamo in questi ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici come i cali significativi a doppia cifra delle produzioni e spesso superiori al 50% sarebbero insostenibili dalle aziende se non ci fosse il sostegno pieno da parte dell'Europa e attraverso ovviamente gli aiuti che normalmente vengono elargiti alle aziende agricole e al settore.